e allora noi fraudiamo ma ci vuole anche collaborazione dei lavoratori perché da soli non possiamo fare niente. Poi naturalmente abbiamo un fenomeno ormai strutturato in agricoltura dove un lavoratore su due o è in nero o viene sottopagato. Ma il lavoratore non è un attrezzo qualsiasi, non si affitta, non si vende.